fratelli e sorelle nel signore oggi parleremo di quelli che vanno a gesù chi sono quelli che vanno a gesù questo perché è stata sollevata una questione no da quelli che sono contro la predestinazione hanno citato un passaggio vedete la differenza tra noi e quelli che contrastano la la predestinazione è questa che noi noi che diciamo portiamo avanti la annunziamo la dottrina della predestinazione a tutte le a tutti gli uomini e a tutte a tutte le donne lo facciamo cercando di spiegare i passi a favore e quelli che sembrano contrari capite cerchiamo di esaminare la somma della parola tutti i passaggi per cercarne il significato e se sono ben interpretati questi passaggi non si contraddicono tra di loro ma anzi si completano capite quando la parola è interpretata correttamente i passaggi biblici si completano invece quelli che sono contrari alla predestinazione cosa fanno si aggrappano a uno o due versetti senza guardare tutto il resto non gli interessa il resto si aggrappano lì e vogliono portare avanti solo quello cioè si attaccano praticamente a qualcosa che avvalora le loro tesi cioè non è che cercano la verità nella parola di dio nella parola di dio usano quei passaggi che devono avvalorare cercano dei passaggi di che avvalorino le loro tesi le loro la loro linea ma non è così che si deve usare le scritture la scrittura ci deve ammaestrare nella verità non è che noi dobbiamo cercare quello che ci piace a noi nella scrittura nella parola di dio noi cerchiamo la verità guardando esaminando la somma della parola è stato citato nel vangelo di matteo andiamo a leggere al capitolo 11 capitolo 11 dal versetto 28 la chiamata no che io credo che anche noi abbiamo esaminato questo questi passaggi e li abbiamo fatti nostri nel senso che quando annunziamo l'evangelo noi possiamo fare uso anche noi di questi passaggi biblici cioè non è che noi non li usiamo non ci crediamo o diciamo che sono sbagliati assolutamente no adesso li esaminiamo e vediamo di dare una spiegazione dal punto di vista dottrinale della predestinazione che spiega anche questo questi questi passaggi quindi scritto matteo 11 28 leggiamo queste parole venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo prendete su voi il mio gioco ed imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero quante volte abbiamo esaminato questi passaggi che ci riguardavano prima di tutto personalmente perché 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 anche noi no se eravamo stanchi travagliati aggravati quando eravamo perduti nei nostri falli e nei nostri peccati sentivamo questo travaglio questo questo aggravio nella nostra anima e siamo andati a gesù cristo ma siamo andati per quale motivo siamo andati a gesù siamo andati per nostra volontà o siamo andati a gesù cristo perché il dio ci ha voluto per forza per la sua volontà attirare a gesù cristo e questo il senso della cosa infatti questo in questo passaggio è un buon passaggio biblico per annunziare l'evangelo perché quello che noi dobbiamo fare è annunziare l'evangelo a tutte le genti perché così gesù ha comandato di ammaestrare e annunziare l'evangelo a tutte le genti a tutti quelli che ci capitano ma una cosa è annunziare l'evangelo a tutti anche citando questo passaggio andate a gesù no se noi annunziamo l'evangelo gli diciamo naturalmente prima di tutto prima di ogni altra cosa quando si annuncia l'evangelo dobbiamo dire ravedete che credete nell'evangelo poi se il discorso continuo possiamo anche dire che andate a gesù perché lui porterà i vostri pesi vi purificherà di tutti i vostri peccati vi salverà vi riempirà di pace di gioia capite possiamo dirle queste cose quando annunziamo l'evangelo alle persone perché perché noi anzi siamo obbligati a parlare a tutte le persone perché perché noi non sappiamo quali sono chi sono i predestinati e chi invece non lo sono predestinati capite quindi noi non sapendo chi sono i predestinati e non sapendo quelli che dio vuole salvare noi annunziamo l'evangelo naturalmente con pienezza di convinzione anche citando esortando le persone ad andare a gesù affinché scarichino tutti i loro travagli i loro pesi il loro aggravio nella vita le loro ansietà i loro peccati ai piedi nella croce di gesù cristo questo è quello che noi siamo chiamati a fare a tutte le genti non solo verso alcuni ma perché dobbiamo fare così dobbiamo fare così perché noi non sappiamo i nomi di coloro che sono scritti nella vita cioè gesù lo sa i nomi lo sapeva lo sa i nomi di quelli che sono scritti nella vita il dio lo sa ma noi no e quindi cosa ci dice la scrittura come dobbiamo evangelizzare a chi dobbiamo evangelizzare quindi da una parte le sacre scritture ci insegnano che esiste c'è la dottrina della predestinazione ma dall'altra le scritture vedete come questo passaggio che abbiamo appena letto qui ci esortano altri passaggi delle scritture che ci dicono e ci esortano e ci insegnano e ci obbligano quindi ad annunziare l'evangelo a tutte le genti a tutti quelli che ci capitano non è che sbagliamo se annunziamo l'evangelo a tutte le genti ma perché noi non sappiamo chi chi è chi è scritto nel libro della vita e chi invece non lo è e questo è questo e siamo chiamati siamo chiamati a fare naturalmente che cosa succede succede che dio quando facciamo la sua volontà anche se abbiamo parlato a gente che non è predestinata anche a gente che non è scritta nel libro della vita il dio a noi che annunziamo l'evangelo ci riempie comunque di pace di gioia perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare poi se il signore li salva o non li salva allora se non li salva noi noi non abbiamo nessun come si dice nessun peso non abbiamo nessuna colpa non è un nostro demerito abbiamo annunziato l'evangelo secondo la grazia che dio ci ha dato no secondo la sapienza che dio ha dato a ciascuno se invece il signore li salva noi non abbiamo lo stesso meriti perché comunque sappiamo che i meriti e la gloria va tutto a dio perché va tutto a dio ma perché lui aveva già stabilito prima della fondazione del mondo che quelle persone venivano salvate quindi noi che cosa siamo non siamo nulla sia non diciamo siamo in mezzo che annuncia la verità e l'evangelo alle persone ma non è che ce ne possiamo prendere i meriti se vengono se queste persone da dio vengono salvate non ne possiamo prendere i meriti ma nello stesso tempo non ne dobbiamo non ne abbiamo il peso il peso grave che è quello che le persone non si convertono a dio non si convertono a cristo quindi non abbiamo il peso e non ne abbiamo meriti solamente che noi per amore della parola perché dio ci obbliga perché lo spirito santo ci sospinge ci sospinge noi dobbiamo annunziare l'evangelo a tutte le genti è questo che ci insegna una parte delle scritture una parte del nuovo testamento ci esorta fortemente a parlare ad annunziare l'evangelo a tutte le genti ad esortare i santi alla santificazione a fortificare i santi nella conoscenza farli crescere capite cioè ci sono tutti questi passaggi che a cui noi dobbiamo seguire dare seguito mentre per quanto riguarda la predestinazione in che che in che cosa è racchiusa la dottrina della predestinazione la dottrina della predestinazione racchiude il concetto che dio sa ha già stabilito quelli che lui salverà ma sono due cose ben distinte e separate quando noi annunziamo annunziamo la predestinazione annunziamo quello che dio sa quello che dio ha stabilito di fare ma non è che lo facciamo noi noi diciamo quello che dio ha già stabilito di fare invece noi quando invece leggiamo altri tipi di passaggi biblici lì leggiamo quello che noi dobbiamo fare che è una cosa ben distinta da quello che che rientra nella conoscenza in quello che dio fa che c'è quello che dio fa va bene è quello che noi dobbiamo fare quello che noi dobbiamo fare è quello di annunziare l'evangelo a tutte le genti dio che cosa fa invece lui salva quelli che sono quelli che che sono predestinanti quelli che sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo capite quindi noi chiamiamo e dio è colui che salva ma non salva tutti quelli a cui abbiamo annunziato l'evangelo cioè quindi noi sappiamo per certo che dio salva solo quelli che sono scritti nel libro della vita anche se annunziamo l'evangelo a tutte le genti che ci capitano perché questo ci è comandato che ci è comandato di fare questo e questo noi facciamo e questo dobbiamo fare quindi per tornare al passaggio che è un passaggio diciamo che mi ha sempre consolato mi è sempre piaciuto annunziare l'evangelo a tutte le genti anche citando questo passaggio no di matteo 11 28 sì 11 28 che dice venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo a voi e alle anime vostre ma che bella speranza ma certamente noi con pienezza di convinzione dobbiamo annunziare anche questo alle persone a quelli che ci ascoltano a quelli che ascoltano in quel momento a cui stiamo annunziando l'evangelo lo dobbiamo annunziare con pienezza di convinzione come se quelle persone come se dipendesse sia che da quelle persone la conversione e sia come se noi potessimo in qualche maniera operare in loro per straparli dal fuoco questo è il sentimento che ci deve muovere quando annunziamo l'evangelo un sentimento di pienezza di convinzione un sentimento certo affinché non parliamo in maniera debole e insicura capite ma un'altra cosa è un'altra cosa è la conoscenza di dio che ha delle persone e dio sa già le persone che si convertiranno e dio sa già prima della fondazione del mondo perché perché non è che soltanto lo sa già lo sa perché lui lo ha stabilito prima della fondazione del mondo coloro che si dovranno coloro che dovranno essere salvati coloro che si che dovranno essere convertiti a cristo gesù che dio stesso li convertirà quindi anche se citano questo passaggio coloro che questo di matteo 11 28 anche se quelli che sono contro la predestinazione anche se citano questo passaggio venite a me voi tutti che siete travagliati cioè questo venite a me non vuol dire che tutti possono andare a gesù perché adesso vediamo altri passaggi che lo definiscono noi la questione che si apre quindi con questo passaggio è ma questo venite a me vuole dire che tutti possono andare a gesù tutti vanno a gesù possono andare a gesù o ci sono taluni che sono esclusi dall'andare a gesù capite quindi questo venite a me che è rivolta a tutti e riguarda tutti indistintamente oppure è una una chiamata particolare che diciamo porterà frutto solo in alcuni ebbene in giovanni leggiamo la risposta la risposta la troviamo in giovanni in giovanni in alcuni passaggi in giovanni leggiamo capitolo 6 in giovanni capitolo 6 al versetto 44 no leggiamo queste parole che dice gesù dice niente può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri e io lo risusciterò nell'ultimo giorno allora quindi abbiamo visto che in matteo 11 28 che viene citato dagli arminiani da quelli che contrastano la predestinazione dicono gesù ha detto di dire venite a me e questo noi lo riconosciamo va bene ma non poi noi andiamo avanti perché noi ci domandiamo ma chi sono realmente quelli che vanno a gesù qui risponde gesù stesso quando gesù dice niente niente vuol dire nessuno quindi nessuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri e io lo risusciterò nell'ultimo giorno vedete quindi non tutti non tutti non per tutti è dato di andare a gesù perché quelli che vanno a gesù anche se la chiamata di gesù è per tutti quando dice venite a voi che siete travagliate da gravati ma noi sappiamo quindi dalla somma della parola dagli altri passaggi biblici noi vediamo che che quelli che vanno a gesù concretamente sono solo quelli che sono attirati da dio a gesù cristo perché qui dice nessuno può venire a me cioè non è che vengono vanno a gesù liberamente secondo la loro volontà no si va a gesù solamente vanno a gesù solamente quelli che sono attirati da dio a cristo quelli che sono attirati da dio quindi vedete qui c'è la risposta quindi da una parte abbiamo visto che il modo di annunziare l'evangelo fa parte di quello che gli uomini credenti devono annunziare a tutte le genti ma il fatto che noi annunziamo l'evangelo a tutte le genti non vuol dire che tutti si convertiranno capite non vuol dire quello infatti qui gesù lo specifica verranno a me solo quelli che 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 il dio attirerà perché dice appunto nessuno quindi non può andare nessuno a gesù se non è il dio che lo attiri a lui vedete lo vedete l'imposizione l'ostacolo il problema dove sta se non è dio che opera e non attira la persona a gesù nessuno può andare a gesù quelli che non sono attirati da dio non possono andare a gesù quindi vedete c'è una netta distinzione cioè c'è uno spartiacque nettissimo tra quelli che dio stabilisce li attira a gesù e tra quelli che invece non sono attirati non sono attirati a gesù questo concetto è talmente importante queste queste parole di gesù che gesù le cita nuovamente le rimette diciamo le cita nuovamente quindi quando un passaggio più è citato c'è più volte è citato e più importanza quindi a per nella parola più avanti al versetto al versetto 64 qui sempre stesso capitolo 6 64 di giovanni gesù dice ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono poiché gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe e diceva per questo vi ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal padre esaminiamo bene questi passaggi cosa ci cosa ci vogliono dire ci dice ci dicono questo ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono poiché gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano vedete qui qui di nuovo viene posto il principio cosa diciamo noi sempre che fin dalla fondazione del mondo fin dal principio il dio ha già stabilito lui quelli che che lui sa quelli che devono credere quelli che non devono credere gesù essendo dio vedete sa fin dal principio lo sapeva fin dal principio gesù quelli che avrebbero creduto lo sapeva fin dal principio però gesù ha parlato a tutti vedete gesù ha parlato a tutti ma sapeva fin dall'inizio quelli che avrebbero creduto e quelli che invece non avrebbero creduto lo sapeva vedete una cosa è sapere vedete un'altra è parlare annunziare la verità e l'evangelo vedete la distinzione anche qui che fa gesù gesù sapeva ma annunziava lo stesso a tutti anche i farisei e a tutti annunziava la verità e l'evangelo così dobbiamo fare anche noi così dobbiamo annunziare l'evangelo a tutti perché noi non non sappiamo non sappiamo chi sono gesù lo stesso l'ha annunziato anche se sapeva se sapeva chi erano quelli che non avrebbero creduto e poi al versetto 65 dice dice e diceva per questo vi ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal padre perché fin dal principio gesù sapeva chi che non tutti sarebbero salvati non tutti avrebbero creduto perché perché solo quelli che dio avrebbe attirato a gesù avrebbero creduto solo quelli solo quelli che so che il dio attira a gesù e questa è una cosa molto importante saperla perché ci ci rincuora capite quando soprattutto in famiglia se c'è qualcuno che perisce noi non siamo responsabili se c'è qualcuno che in famiglia si converte noi non ne abbiamo merito perché vuol dire che erano scritti nel libro della vita vuol dire che se sono periti non erano scritti nel libro della vita quindi era già stabilito quindi io che peso posso mai avere che non gli ho annunziato due volte tre volte dieci volte l'evangelo che non ho pregato abbastanza per loro ma se dovevano andare in perdizione vanno in perdizione e nessuno li può fermare nessuno può può evitare ciò se invece dio li vuole salvare e dio li salva che noi vogliamo oppure no i dio li salverà i dio opererà in loro e li salverà che dio li attirerà verso gesù cristo verso la croce per ottenere la salvezza ma questa opera la compie è dio perché il dio fin dal principio fin dalla fondazione del mondo è stato scritto il libro della vita nel quale sono segnati i nomi di quelli che saranno salvati i nomi che non sono scritti di conseguenza se io in un libro scrivo i nomi di quelli che sono che che saranno salvati perché è stato scritto prima della fondazione del mondo è chiaro che tutti gli altri nomi non potranno essere salvati e qui andranno in perdizione se questo scrivere questo libro scritto segna quello che sarebbe avvenuto quello che avviene infatti tuttora e che avverrà sempre e la volontà di dio si adempie sempre i disegni di dio egli li porta a compimento se così ha stabilito ha stabilito sia per i salvati e sia per i vasi vasi dira preparati per la perdizione no quindi dio ha già stabilito chi sono i vasi di misericordia ha già stabilito chi sono di conseguenza esclusi dai vasi di misericordia gli altri sono per forza di cose tra i vasi e vasi dira preparati per la perdizione è automatico quindi ecco perché parliamo di doppia predestinazione che è quella che non sopportano perché non la sopportano perché in qualche maniera si oppongono molti si oppongono alla sovranità di dio il dio regna cioè il dio non è che opera solo la salvezza negli uomini il dio opera anche l'induramento dei cuori degli uomini perché così è scritto è scritto nei profeti gesù l'ha citato in romani scritto quindi il dio non solo opera ammorbidendo i cuori no non solo li ammorbidisce e li fa credere nella in cristo e per essere salvati ma il dio indurisce anche i cuori che lui vuole indurire infatti il dio indura chi vuole no il dio ha misericordia di chi vuole e indura chi vuole fa la duplice azione nei cuori che lui vuole salvare li ammorbidisce e li salva nei cuori che non ha deciso di salvare prima della stiamo parlando di una decisione già presa prima della fondazione del mondo il quale è stata messa per iscritto nel libro della vita quindi questi questa queste decisioni sono già state prese e oggi non possono essere modificate quindi dopo quella decisione non può non può avvenire nessuna modifica se non se non la cancellazione di qualche di qualche uno di qualche nome che è scritto nel libro della vita perché in apocalisse leggiamo che è possibile anche che il nome possa essere cancellato da questo libro e anche l'ho detto mosè no aveva richiesto di essere cancellato dal libro della vita dal libro del giusto ma il dio non è non è che cancella chi lo chiede il dio cancella quelli che lui ha deciso di cancellare quindi c'è anche questa possibilità ecco perché di conseguenza tra di noi che siamo scritti nel libro della vita per non essere cancellati ci esortiamo continuamente a perseverare nella preghiera nella la santificazione nella nel crescere nella conoscenza di dio di abbondare nelle buone opere per arrivare sino alla fine non essere cancellati dal libro della vita perché c'è anche questa possibilità ed è bene che ci sia perché se uno prende coscienza se non ci fosse questa possibilità di essere cancellati uno presa coscienza che il suo nome era scritto nel libro della vita cosa succede cosa potrebbe succedere che questo qui si siede dice ormai faccio quello che mi pare tanto ormai sono salvato cambierà solo il premio e sono salvato se non ci fosse la perdita della salvezza ma siccome è scritto anche che la salvezza si può perdere ecco che c'è uno sprone ecco che c'è uno stimolo a perseverare nella fede sino alla fine ora che siamo dentro la via della verità ora che siamo dentro la vita ecco che siamo spronati ci dobbiamo spronare gli uni gli altri siamo spronati da dio a perseverare nella fede sino alla fine nelle buone opere nella santificazione per non mollare per non perdere il premio per non andare anche noi ad essere gettati all'inferno quindi e vedete non è che noi che crediamo nella predestinazione ci sediamo e non facciamo più nulla anzi se guardiamo anche ci guardiamo attorno quelli che stanno esortando maggiormente maggiormente la santificazione al perseverare nella preghiera e nello studio e a tenersi strettamente alle sacre scritture siamo maggiormente noi che stiamo di nuovo tirando fuori abbiamo tirato fuori dissepellito la dottrina della predestinazione che in molti anni erano riusciti a nascondere agli occhi dei fratelli alle orecchie e agli occhi dei fratelli e dei membri di queste comunità questi conduttori moderni erano riusciti a nascondere questa dottrina infatti non se ne parlava quasi più se ne accennava qualcosa con i riformati qualcuno che studiava più approfonditamente ed era più deciso nelle scritture vedeva che c'era scritta questa dottrina ma la maggioranza si pendeva soltanto dalle labbra dei loro pastori e i pastori nascondevano queste dottrina questa dottrina questa dottrina che dà tutta la gloria a dio a dio che è sovrano annichilisce completamente la gloria dell'uomo la fa scomparire davanti a dio la gloria dell'uomo questa dottrina questa dottrina si aggiunge strettamente alla salvezza per la sola grazia per la sola misericordia di dio perché è un dono di dio non ci sono opere che possono essere compiute dall'uomo per essere salvati quindi questa dottrina è strettamente collegata alla salvezza per grazia per sola grazia per la sola fede come dono di dio la salvezza come dono di dio data gratuitamente da dio agli uomini senza che l'uomo abbia potuto fare niente infatti l'uomo quando è nato di nuovo l'uomo che nasce di nuovo l'uomo che viene salvato e purificato dai suoi peccati avviene per quell'opera potente che compie lo spirito santo dentro di lui facendo convincendolo quanto al peccato al giudizio e al e alla giustizia di dio quindi è lo spirito santo che ha operato dentro di noi salvandoci e dio che ha operato in noi ci ha attirati a gesù cristo e lo spirito santo ci ha ci ha compunti ci ha fatto capire che eravamo peccatori e bisognosi di salvezza ci ha fatto credere ha messo in noi la fede che ci ha fatto credere in quel sacrificio che ho compiuto da cristo gesù e che quel sangue che è stato sparso nella croce è servito per purificarci dai nostri peccati per renderci giusti siamo stati resi giusti da dio per mezzo della fede nel sacrificio compiuto da gesù cristo ma questo è avvenuto senza che noi potessimo né impedirlo e né fare in modo di volerlo e ottenerlo per forza non lo potevamo respingere e non lo potevamo neanche ottenere per le nostre forze perché noi eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati e non avevamo nessuna forza dentro di noi che poteva riuscire a far nascere la vita spirituale in noi non avevamo questa forza eravamo morti un morto non può risuscitarsi da sé deve essere per forza di dio che lo risuscita no ecco così come anche l'uomo non è in grado di respingere perché l'uomo non può resistere alla volontà di dio quindi l'uomo non può respingere la grazia di dio come non la può neanche ottenere per la sua volontà è questo l'uomo è in balia di dio se si può dire se mi concedete il termine è dio che regna in un'altra parola è l'eterno regna l'eterno è sovrano l'iddio che ha fatto i cieli e la terra è colui che governa l'universo che governa ogni angolino del suo creato comprese le nostre anime le anime di tutti gli uomini i pensieri i cuori le azioni tutto l'eterno è colui che nell'uomo opera il volere e l'operare cioè agisce dentro l'uomo mettendo sia il volere che l'operare come scritto in filippesi quindi vedete è dio che opera nell'uomo ogni cosa il dio è sovrano e con questa dottrina noi diamo restituiamo tutta la gloria a dio non ce ne possiamo trattenere neppure un briciolo neppure una virgola tutta la gloria va a dio e noi proclameremo questa dottrina finché avremo un alito di vita perché è giusto che sia così perché a dio deve andare tutta la gloria solo al nostro dio vi ricordo che erode per non aver dato tutta la gloria a dio questo per farvi capire quanto è importante dare a dio tutta la gloria che gli spetta di cui è meritevole per farvi capire questo vi rimando a leggere per quali quali sono i motivi per cui dio ha fatto morire erode in atti degli apostoli lo potete leggere e c'è scritto che siccome non diede tutta la gloria a dio non diede tutta la gloria a dio il dio mandò un angelo mandò un angelo a percuotere a percuotterlo e morì rosso dai vermi perché perché non diede tutta la gloria a dio quindi non è come taluni dicono che non è importante non è la dottrina della predestinazione che salva non è questa conoscenza che salva no forse non è questo che salva perché quello che salva è la fede nel sacrificio che gesù cristo ha compiuto però dobbiamo stare attenti a dare anche a dio tutta la gloria che gli spetta e il nostro obiettivo la nostra vita deve essere improntata sempre a dare tutta la gloria a dio non è che ce la dobbiamo trattenere noi da una parte diciamo di essere salvati per la volontà di dio e dall'altra diciamo possiamo forse dire che abbiamo creduto per nostra volontà non può essere perché anche quella è un'opera che abbiamo compiuto sarebbe un'opera che distingue colui che ha creduto da colui che non ha creduto l'ago della bilancia sulla salvezza penderebbe dalla parte dell'uomo quindi dipenderebbe non da dio ma dall'uomo la salvezza se anche una minima percentuale dovesse partecipare partecipare l'uomo alla salvezza ma l'uomo è il destinatario della salvezza non la gente colui che agisce per essere salvato colui che agisce per essere per salvare e dio colui che diciamo subisce l'azione della salvezza in senso buono subisce cioè nel senso destinatario dell'azione della salvezza di dio è l'uomo ma l'uomo non può fare nulla deve soltanto ricevere l'azione di dio nel salvare quindi l'uomo 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 non ha fatto nulla non può fare nulla a dio e tutta va tutta la gloria e oggi sono qui appunto a ricordarvi questo io credo che non sia la prima volta che l'avete sentito e non sarà neanche l'ultima perché noi ci dobbiamo continuamente esortare e ricordare queste cose e dare sempre tutta la gloria all'iddio vivente e vero ma leggiamo anche un altro passaggio sempre in Giovanni sempre nel Vangelo di Giovanni andiamo avanti al capitolo 15 leggiamo al versetto 16 leggiamo queste parole Gesù parlando ai suoi discepoli quindi gli dice queste parole non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate portiate frutto e il vostro frutto sia permanente cioè non siamo noi infatti non è l'uomo quindi a conferma di quello che stiamo dicendo che non è l'uomo che è andata Gesù qui lo dice in un'altra maniera dice voi non siete cioè non siete voi che avete scelto di venire a me di venire a di andare a Gesù Cristo ma solo io quindi Gesù Cristo che ha scelto loro per essere salvati perché era già stato determinato prima della fondazione del mondo coloro che dovevano essere salvati quindi anche questo passaggio vedete lo conferma qui usa la parola scelto in altri punti leggiamo la parola elezione scegliere elezione sono sinonimi sono parole che si possono interscambiare voglio hanno lo stesso significato quindi l'elezione di Dio quando si parla della dottrina dell'elezione di Dio del proponimento dell'elezione di Dio si sta parlando appunto della della decisione perché proponimento vuol dire che Dio ha preso una decisione che cosa riguarda questa decisione riguarda l'elezione a salvezza delle persone cioè la scelta che Dio ha già deciso di fare quindi del per degli uomini che saranno salvati scegliendo gli uomini che saranno salvati sceglie obbligatoriamente per esclusione anche quelli che andranno in perdizione quindi vedete c'è la duplice duplice scelta di Dio nel mandare in perdizione taluni e nel salvare altri cioè così Dio così la scrittura ci insegna così Dio ha stabilito nella sua sovranità e noi non ci possiamo opporre a quello che Dio ha stabilito proponimento cioè e Dio si è avuto un proposito no ha fatto dei pensieri dei piani dei disegni va bene prima anche prima della fondazione del mondo prima che venissero gli uomini all'esistenza il Dio aveva già deciso gli uomini che dovevano venire all'esistenza e quelli che sarebbero stati salvati quando questi sono venuti all'esistenza quando sono venuti all'esistenza il Dio li ha chiamati e poi li ha salvati infatti infatti leggiamo in romani questo questo che sto dicendo adesso lo leggiamo in romani romani capitolo 8 in romani capitolo 8 al versetto 29 leggiamo queste parole perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo ondegli sia il primo genito fra molti fratelli e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati vedete qui dice quelli che ha preconosciuti se questa parola cioè che vuol dire conosciuti prima volesse dire una conoscenza no come io conosco voi voi conoscete me un questo tipo di conoscenza se qui volesse dire questo allora vediamo che Dio non è onipotente se ci limitiamo a a a questo tipo di significato perché perché noi sappiamo bene che Dio non solo conosce i giusti ma conosce anche gli empi e Dio conosce tutte le persone sulla terra conosce investiga le reni conosce tutti quanti dal punto di vista di conoscere nel senso di questa parola qui il significato di conoscere è lo stesso significato che troviamo anche ad esempio quando leggiamo nel libro della genesi o in altri punti anche nei vangeli che leggiamo in genesi che Adamo conobbe Eva e nacque Caino questo lo leggiamo andiamo a cercarlo qui in genesi leggiamo 4 1 genesi 4 1 leggiamo or Adamo conobbe vedete verbo conoscere conobbe Eva sua moglie la quale concepì e partorì Caino e disse ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'eterno questo perché ho voluto citarlo per farvi capire che questa parola conoscere viene utilizzata dalla scrittura anche fuori dalla sua diciamo specifica significato che normalmente sappiamo della parola conoscere ma indica anche indica anche quel profondo sentimento che ci può essere verso una persona va bene come abbiamo dimostrato un profondo sentimento che si è manifestato con la unione carnale per quanto riguarda Adamo ed Eva qui quando Gesù in Romani 8 29 dice quelli che egli ha preconosciuti cioè quelli che egli ha profondamente amato fin dal principio quel pre dice prima quindi quelli che ha amato quelli che ha amato prima quindi quando fin dalla fondazione del mondo che significato è quello quelli quindi che Dio ha amato cosa ha fatto li ha pure predestinati vedete tutto coincide tutto corrisponde con tutta la somma della parola quelli che Dio ha amato fin dal principio e li ha pure predestinati ad essere vedete li ha predestinati ad essere che cosa ad essere conformi all'immagine del suo figliolo vedete siamo stati predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo onde egli sia il primo genito fra molti fratelli qui non sta parlando che ha predestinato gli incredoli qui non ha predestinato gli incredoli ma perché questa predestinazione riguarda di essere simili a Cristo capite di essere di diventare fratelli di Cristo e di essere simili a Cristo e questo riguarda solo quelli che Dio ha amato fin dal principio dall'inizio prima della fondazione del mondo quelli quindi che ha predestinati vedete cosa è successo quando Dio ci ha anche noi che siamo nati di nuovo siamo stati preconosciuti cioè Dio ha avuto ci ha amati fin dalla fondazione del mondo quindi dal principio ci ha predestinati quindi avendoci amati ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo ci ha predestinati poi cosa ha fatto ci ha fatti anche chiamare guardate cosa dice qui quelli che ha predestinati li ha pure chiamati quindi un giorno noi abbiamo udito l'evangelo siamo stati chiamati a salvezza siamo stati chiamati a lui e abbiamo e diciamo il signore ci ha salvati il signore però l'azione è sempre Dio che la compie noi siamo solo i destinatari dell'azione di Dio della misericordia di Dio non siamo quelli che in qualche modo hanno aiutato o hanno sostituito la volontà di Dio assolutamente no noi siamo stati i credenti in tutti i secoli sono stati sempre soltanto i destinatari della grazia di Dio perché quelli che lui ha preconosciuto ha amato fin dal principio li ha pure predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati guardate qui cosa dice quelli che ha chiamati li ha pure giustificati vedete quindi quelli che ha chiamato e che erano predestinati che erano preconosciuti li ha pure giustificati li ha resi giusti mediante la fede infatti chi è nato di nuovo cosa è successo in lui mediante la fede nel sacrificio compiuto da Cristo Gesù sulla croce è stato giustificato quindi è stato reso giusto perché quel sangue sparso nella croce da Gesù Cristo quando era sulla croce quel sangue ci ha purificato da ogni peccato in quel momento iniziale siamo stati giustificati cioè resi giusti da Dio e quindi vedete tutto corrisponde quelli che ha giustificati li ha pure glorificati quindi quindi poi andremo anche in gloria saremo anche glorificati quindi vedete vedete come tutti i passaggi se spiegati alla luce della somma della parola non si contrastano non si contraddicono ma tutti combaciano l'uno con l'altro ora se quelli che contrastano la predestinazione tenete conto anche che io oggi sto citando solo pochissimi passaggi e ne sto citando soltanto un paio non è che sto citando tutti i capitoli tutti i versetti della predestinazione io oggi ho scelto soltanto un paio di passaggi per parlare ancora della predestinazione della salvezza per grazia della salvezza stabilita da Dio per gli uomini in cui l'uomo non partecipa assolutamente è il destinatario dell'azione della misericordia di Dio ma non partecipa non merita non è degno di nulla sto citando solo alcuni passaggi solo alcuni pochi passaggi altri ne citeremo in futuro alcuni li ho già citati in passato ma è così perché ce ne sono talmente tanti che in una sola predicazione non si possono citare tutti allora quelli che non credono nella predestinazione si dovrebbero prendere cura di prendere tutti questi passaggi che riguardano la predestinazione che si uniscono tutti insieme a formare un muro un muro invalicabile indistruttibile a spiegarli secondo il loro modo di vedere cioè quando c'è scritto che nessuno può andare a Gesù se non gli è andato da se non gli è dato dal padre lo devono spiegare due volte scritto quindi lo devono spiegare questo passaggio cioè non è che basta citare ma c'è scritto venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati sì però dopo Gesù spiega anche chi sono quelli che vanno a lui e dice né uno può venire a me se non gli è dato dal padre che non se non è il padre che lo attiri capite quindi da una parte abbiamo visto come c'è un'esortazione quando annunziamo l'evangelo alle persone di mandarli a Gesù tutti quanti indistintamente ma sappiamo che solamente quelli che Dio ha stabilito solo quelli saranno salvati solo quelli andranno a Gesù gli altri non potranno andare perché saranno induriti da Dio come anche è scritto è scritto quindi quindi ancora i romani andando avanti leggiamo anche queste parole capitolo 9 capitolo 9 e versetto 16 non dipende dunque né da chi vuole vedete né da chi corre ma da Dio che fa misericordia anche questo passaggio devono spiegarci qui dice chiaramente non dipende la salvezza qui sta parlando della salvezza il concetto che sta esprimendo qui l'appostolo paolo ai romani nel capitolo 9 e anche successivi sta spiegando la salvezza sta parlando della salvezza come si ottiene la salvezza in questo specifico passaggio dice che non dipende la salvezza da chi vuole capite anche se ci possono essere delle persone che vogliono essere salvate ma non sono scritte nel libro della vita non dipende da loro non dipende da loro non dipende ad esempio io volevo essere salvato ma io volevo essere salvato tantissimi anni prima del momento in cui sono stato salvato quindi vede non dipende da chi vuole e neanche dal momento in cui tu vuoi neanche il momento dipende da te ma tutto dipende da Dio anche il momento lo ha stabilito Dio anche se non era un vaso preparato per la perdizione ma Dio mi aveva iscritto nel libro della vita io non è che sono stato salvato quando ho voluto io sono stato salvato quando ha voluto lui quindi anche qui vedete c'è da considerare la sovranità di Dio la gloria di Dio nel fare la sua opera quando vuole lui a chi vuole lui a chi vuole fare misericordia e quando lo vuole lui anche il quando è importante che Dio lo stabilisce lui il quando che io e da quando sono piccolo che volevo essere salvato e volevo conoscere il Signore mi sentivo questa spinta continua eppure l'ho conosciuto solamente a 23 anni nel 1990 il Signore ha avuto misericordia di me ha deciso di avere misericordia di me in quell'anno né prima né dopo ha deciso in modo preciso ha stabilito il momento che lui aveva determinato fin dalla fondazione del mondo ma fosse di peso da me perché non dipende da chi vuole infatti io volevo essere salvato io cercavo piegavo le mie ginocchia gridavo a Dio perché volevo essere salvato volevo conoscerlo volevo conoscere la verità non sapendo cos'era la salvezza non sapendo cos'era il perdono dei peccati però sapevo che dovevo cercare Dio questo lo sapevo che ero perduto nei miei falli e nei miei peccati questo lo sapevo e quindi avevo bisogno di Dio per essere salvato sapevo anche questo però naturalmente non conoscevo quello che dicevano le scritture su tutti questi soggetti ma quando è avvenuto quando l'ho voluto io quando l'ho cercato io no la salvezza è venuta quando Dio ha stabilito aveva stabilito un giorno preciso aveva stabilito un periodo preciso aveva stabilito un anno preciso quando lui ha voluto ecco quindi ancora questi passaggi li devono spiegare questi passaggi vanno spiegati se uno non crede nella predestinazione questi passaggi vanno spiegati scusate se qui dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia ma si capisce anche che se Dio a quello non gli fa misericordia è perduto e va e va in perdizione è Dio che lo stabilisce no perché se la salvezza si ottiene solo per la misericordia di Dio verso una persona se Dio non gli fa misericordia è chiaro che lo sta gettando all'inferno non è non c'è un'altra possibilità non c'è una via di mezzo qui o Dio ha misericordia di qualcuno e lo salva o se no non ha misericordia e lo manda in perdizione chi è che sta decidendo questo non di certo l'uomo nella sua volontà non di certo l'uomo l'uomo non può decidere assolutamente nulla né di andare in perdizione da solo e né di andare in paradiso per la sua volontà l'uomo non decide proprio nulla ed è per questo che è scritto infatti non è in potere non è come nei profeti è scritto non è in potere dell'uomo dirigere i suoi passi ma i passi dell'uomo li dirige l'eterno capite i passi dell'uomo li dirige l'eterno li dirige dove vuole lui e come vuole lui io ad esempio non volevo fare questo tipo di lavoro mi ero sempre opposto nella mia mente prima di ho fatto questo lavoro perché perché per l'opera di Dio dovevo incontrare delle persone come è avvenuto poi nella mia vita con con alcuni questi incontri sono durevoli e portano grande beneficio a me e spero anche agli altri a quelli che mi hanno conosciuto altri invece ci siamo divisi e hanno portato dolore a me e credo anche si siano addolorati loro quindi si bisognava incontrare tante persone come Dio aveva stabilito l'aveva già stabilito il Dio ogni cosa ed è così come lui ha stabilito così è avvenuto vedete al versetto 18 romane 9 9 18 dice ancora così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole vedete quello che non riescono maggiormente a digerire quelli che contrastano la volontà di Dio che contrastano la predestinazione di Dio anche per i perduti ma qui è scritto chiaramente egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole ma se dice così la scrittura perché dobbiamo cambiarla il Dio fa misericordia a chi vuole certo e questo taluni l'accettano anche però che Dio indura chi vuole non lo possono accettare questo proprio non è possibile noi stiamo siamo posseduti dai demoni siamo eretici perché diciamo quello che è scritto il Dio indura chi vuole ma scusate ma se accettiamo che Dio fa misericordia a chi vuole dobbiamo per forza di cose accettare anche che Dio indura chi vuole ma se c'è scritto come faccio accettare una parte e l'altra rigettarla non ha senso capite anche perché citando tutti gli altri passaggi della scrittura guardando la somma della parola non c'è niente che annulli questo passaggio perché se è scritto questo passaggio per annullarlo ho bisogno di un altro passaggio biblico perché solo la stessa autorità può cambiare quello che ha detto quell'autorità infatti anticamente fu detto di non mangiare carne di maiale ma poi venne Gesù che è la stessa autorità di colui che aveva annunciato a Mosè che secondo la legge non si doveva mangiare carne impura dopo ha fatto tutti i cibi puri Gesù quindi adesso ci troviamo a mangiare ogni tipo di carne ogni tipo di cibo anche quelli ritenuti impuri per la legge di Mosè perché perché un'autorità super la stessa autorità perché superiore di quella non c'è Dio e Dio la stessa autorità ha decretato una una diciamo ha modificato quel comando capite quindi quando è scritto un comando quando è scritta una cosa nella Bibbia per poterla modificare cambiare dobbiamo trovare altri passaggi biblici che chiaramente la modificano altrimenti siamo noi che la stiamo modificando ma ma un uomo di carne e polvere come me come voi che ascoltate non possiamo modificare un bel niente siamo carne e polvere e l'autorità divina che ha dato un comandamento che ha scritto delle parole non possono assolutamente essere modificate o cambiate dalla carne e dalla polvere assolutamente no quindi noi ci dobbiamo sottomettere sottomettere a quello che è scritto alla massima autorità che ha voluto scrivere queste parole che è lì Dio vivente vero alla quale appartiene ogni cosa ed è lui che regna è lui che regna sia nel creato inanimato e sia anche negli animali e sia anche negli uomini capite sia nelle cose visibili sia in quelle invisibili che Dio regna l'eterno regna non gli sfugge non sfugge nulla dal suo controllo questo è lì Dio che noi leggiamo nella Bibbia questo è lì Dio nel quale abbiamo creduto e questo è lì Dio che dobbiamo proclamare e annunciare a tutte le genti in cui ci incontreremo quindi noi gli annunzieremo la predestinazione anche se non la vogliono sentire anche se vogliono chiudere le loro orecchie perché noi dobbiamo proclamare la gloria la gloria dellì Dio vivente vero sia se ascoltano e sia se non ascoltano e a questo proposito ci è comandato di farlo appunto come è stato ordinato al profeta Ezechiele e per finire appunto citiamo queste parole del profeta Ezechiele ai primi capitoli e sta scritto capitolo 2 dal versetto 3 quindi Dio che parla e dà istruzioni al profeta Ezechiele egli mi disse figliolo d'uomo io ti mando ai figlioli di Israele a nazioni ribelli che si sono ribellate a me essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno a questi figlioli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando e tu dirai loro così parla il signore l'eterno e sia che ti ascoltino o non ti ascoltino già che è una casa ribelle essi sapranno che v'è un profeta in mezzo a loro quindi l'esortazione per noi è quella che annunziamo l'evangelo a tutti ma che annunziamo anche la dottrina della della predestinazione quindi da una parte è vero che dobbiamo annunziare l'evangelo a tutte le genti dall'altra è vero anche dobbiamo annunziare la dottrina della predestinazione dobbiamo annunziare che Dio già conosce già stabilito quelli che saranno salvati e non importa se ci ascoltano o non ci ascoltano ci è comandato perché a noi c'è comandato di fare questo sia nell'annunziare l'evangelo e sia nell'annunziare la sana dottrina che c'è scritta nella parola di Dio ai santi capite qui dobbiamo annunziare ai santi la dottrina della predestinazione perché così è scritto non importa se ci ascoltano o non ci ascoltano lo dobbiamo fare come come era stato come era stato stabilito da Dio per Ezechiele e quindi sapranno che c'è questa dottrina conosceranno se gliel'hanno nascosta che c'è questa dottrina questa dottrina deve uscire fuori è già uscita fuori e noi la faremo risplendere per quante tenebre loro potranno gettare noi getteremo sempre più luce su questa dottrina e su tante altre che loro hanno voluto nascondere nella parola di Dio e per quanto riguarda invece quelli che che sono ancora perduti nel loro falle nel loro peccati la scrittura ci comanda di annunziare l'Evangelo a tutte le genti fino a quando non sapremo se Dio ci rivela che quella persona il Dio la sta indurando e non sarà salvata se ce lo rivela allora è chiaro che non dobbiamo insistere non dobbiamo annunziargli l'Evangelo ma fino a quando il Dio non ce lo rivela dobbiamo annunziare a tutti quindi pratichiamo quella parte delle scritture che c'è scritto di annunziare a tutti l'Evangelo ma crediamo anche in quella parte delle scritture che riguardano una mera conoscenza di Dio sui predestinati sulle persone che saranno salvate quindi distinguiamo noi dobbiamo avere quel discernimento che molti purtroppo non hanno sulla conoscenza che Dio ha su quello che Dio ha stabilito non è solo una mera conoscenza ma per noi è una conoscenza di quello che Dio ha stabilito e dall'altra quello che Dio ci ordina di fare con i perduti cioè di annunziare l'Evangelo a tutti quanti sono due cose distinte che non è che si possono mescolare assieme per annullare così la predestinazione capite le dobbiamo discernere distinguere perché a noi ci è dato di annunziare l'Evangelo a tutti così ci è comandato dall'altra sappiamo che Dio ha già stabilito ogni cosa e questo era l'esortazione e la consolazione e la conoscenza che volevo darvi volevo trasmettervi in questo giorno e a Dio siano la gloria l'onore la lode nei secoli dei secoli amè a Dio siano la gloria